adesso vi faccio vedere fiorite due piante che vi ho fatto vedere in rosetta basale stiamo parlando di echium plantagineum e echium vulgare sono entrambe delle famiglie delle boraginacee se vi siete persi il video della rosetta basale lo potete recuperare nella playlist boraginacee e lì vi ho spiegato proprio la differenza delle foglie basali adesso invece siamo nel periodo di fioritura siamo maggio quindi andiamo a vedere invece cosa le differenzia e cosa ovviamente le accomuna per prima cosa cosa le accomuna entrambe sono caratterizzate da questa infiorescenza che si chiama acima scorpioide vedete che è un'infiorescenza avvolta su se stessa anche qua lo vediamo bene vedete è tipica della di questo genere del genere echium e così andiamo a scoprire anche un termine nuovo di botanica cioè infiorescenza acima scorpioide cosa significa è questo tipo di infiorescenza che risulta essere arrotolata e man mano che progredisce nella fioritura si srotola è una infiorescenza definita perché come notate i fiori più vecchi sono quelli posti più vicine vicini all'asse e i fiori più giovani sono invece al termine di questa infiorescenza e ripeto adesso risulta essere molto arrotolata perché la fioritura appena iniziata ma man mano si srotolerà per diventare quasi lineare ecco questa si chiama proprio infiorescenza acima scorpioide anche qua possiamo vedere vedete che c'è il fiore più vecchio che è più vicino all'asse e man mano si srotola qua vediamo i bocciolini dei 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 fiori prossimi alla fioritura quindi quelli più esterni sono quelli più giovani ok detto questo allora andiamo subito a notare una cosa a parte la diversità di colore perché ecchium plantagineum ha un verde molto più brillante rispetto a ecchium vulgare ma guardate anche le ramificazioni ecchium plantagineum risulta essere molto più ramificato rispetto a ecchium vulgare quindi questa è proprio la prima differenza la seconda differenza che si nota subito è nei peli infatti ecchium vulgare ha dei peli che sono molto più ispidi quindi peli più pelosi diciamo quindi e tra l'altro si vede anche il tubercolo che è più scuro mentre ecchium plantagineum è vero che è molto peloso come tutte le borraginacee ma i peli sono diciamo un pochettino meno meno ispidi ecco altra cosa andiamo a vedere i fiori i fiori sono caratterizzati da un calice che ha cinque denti vediamo se riesco a inquadrarlo eccolo qua quelli di equium plantagineum sono il calice a questi denti che sono molto più lunghi arrivano proprio alla metà della corolla mentre in ecchium vulgare il calice è anche questo con cinque denti ma arrivano sono proprio cortissimi non arrivano neanche a un terzo della corolla vedete altra cosa qua la corolla è molto più aperta molto più slargata e guardate anche gli stami qua non sporgono qua invece sporgono nettamente vi faccio vedere quindi questa oltre a essere meno slargata più piccolina proprio degli stami che sporgono nettamente al contrario di equium plantagineum dove vedete che gli stami non si vedono dovete andarli a cercare altra cosa del fiore che non so se si nota col cellulare sulla faccia esterna della corolla di equium vulgare il fiore risulta essere pubescente vedete mentre in equium plantagineum il fiore è assolutamente glabbro dopo di che va bene foglie basali che però in questa fase ormai sono scomparse perché la rosetta basale risulta essere scomparse sono molto diverse perché quelle di equium plantagineum sono picciolate e sono proprio ovate mentre quelle di equium vulgare sono proprio lineari per quanto riguarda la commestibilità anche in questa fase possiamo utilizzarli in cucina cosa però possiamo utilizzare i gambi i gambi hanno questi peli veramente duri quindi devono essere grattati prima con una paglietta vi consiglio di grattare proprio i gambi con una paglietta per togliere i peli e poi ad esempio farli a vapore una volta che le avete fatti al vapore potete usarli per le vostre crespelle le vostre frittate i vostri risotti le lasagne ecco le foglie invece si fa fatica proprio a togliere i peli quindi rimangono al palato molto ispide quindi per me è meglio usare i gambi poi ognuno può fare qualche vuole in cucina detto questo vi ricordo che appartenendo alla famiglia delle borraginacee contengono alcaloidi pirolizidinici quindi il consumo va limitato e se volete poi approfondire trovate nella sezione community anche il mio articolo sugli alcaloidi pirolizidinici ecco qua quindi ecchium vulgare e ecchium plantagineum in fioritura a maggio